Ciao a tutti, mi trovo in compagnia del maestro Giovanna Passanisi, presidente della scuola di Apason. Giovanna, oggi ci troviamo qui per parlare di un importantissimo appuntamento il 9 novembre qui alla scuola di Apason. Si tratta di un seminario di chitarra, tra l'altro stiamo parlando di un evento di grande portata, ma entriamo nel dettaglio, spiegaci meglio. Bene, salve a tutti. Dunque, l'evento avverrà il 9 novembre qui ad Augusta alla di Apason, in via Cristoforo Colombo numero 41, e che sede, centro abilitato della MMA. L'MMI, Accademia di Musica Moderna, accreditata in tutta Italia, offre a chiunque voglia partecipare, non solo quindi per chi è interessato al settore, quindi chitarrissi, chitarra moderna, stiamo parlando di chitarra moderna, un evento eccezionale, è un'unica tappa, quindi un seminario che verrà svolto qui da Martin Miller, è un chitarrista di fama europea e oserei dire anche internazionale, che è per la prima volta in Italia solo per la di Apason, evento quindi organizzato dall'MMI, verrà qui da noi e ci offrirà questa grande opportunità di conoscere questa grande realtà e questo chitarrista così eccezionale. Addirittura un chitarrista tedesco che viene in esclusiva, qui unica tappa in Italia, appunto, alla di Apason di Augusta, quindi un appuntamento sicuramente imperdibile non solo per i musicisti di Augusta, ma che raccoglie musicisti da tutto il territorio, anche di altre province. Il giorno è il 9 novembre, si svolgerà in una giornata, gli orari saranno? Gli orari sono dalle 16 alle 20, quindi è un pomeriggio e una domenica, quindi trascorreremo questo pomeriggio insieme, insomma piacevolmente sicuramente. Grazievolmente musicalmente insieme per, diciamo, una specializzazione nel mondo della chitarra per chi appunto suona questo meraviglioso strumento. Seminario e di che genere stiamo parlando? È un seminario che intanto non è per tutti i musicisti, perché la formazione, come sapete benissimo, è una cosa che bisogna sempre comunque tenere viva e in particolar modo per il settore. Miller spazia in diversi campi, andiamo dal pop, dal jazz, dal blues, quindi è a 360 gradi per chi vuole interessarsi e apprendere sempre di più. Quindi assolutamente aperto a tutti. Le informazioni per partecipare o prenotare, per la partecipazione al seminario, le trovate su Rassegna, sull'home page del giornale online Rassegna Metropolitana. Io direi, Giovanna, che oltre a invitare tutti possiamo, diciamo, lanciare questo invito e congedarci. Grazie per l'attenzione. È tutto da Jessica Bellisti per Rassegna Metropolitana.